Musica Rifiuti di scarichi a cielo aperto a Salle Teggiano, a Sala ripulita a località Santa Maria degli Olivi, Teggiano invasa dai rifiuti. Cilento, affitti bed and breakfast e case vacanze, scoperto un'evasione milionaria. Teggiano, il dirigente scolastico Rocco Colombo verso il pensionamento, emozione e bilancio nell'ultima conferenza stampa da preside. San Tersegno, da quest'anno si avvia un corso serale all'Istituto Sacco. Certosa di San Lorenzo, campania by night, domani Peppe Servillo e Solis String Quartet. Buonasera, ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo di abbandono, di rifiuti. Andiamo a Sala Consilina dove questa mattina un fotogruppo tra volontari e operatori sono stati impegnati nella pulizia di una microdiscarica in località Santa Maria degli Olivi con l'area invasa dalla spazzatura. impegnato nella pulizia anche il consigliere comunale con delega all'ambiente e all'ecologia Nicola Colucci che ha anche annunciato la prossima approvazione in Consiglio Comunale del regolamento per l'installazione di fototrappole. Una microdiscarica a Sala Consilina in località Santa Maria degli Olivi ha reso necessario l'intervento di operatori e volontari per la bonifica dell'area. Ancora sversamenti illeciti di rifiuti da parte di incivili che incuranti dei rischi per l'ambiente avevano reso una vasta area verde in una vera e propria discarica a cielo aperto. Questa mattina una fosta delegazione è stata impegnata nella pulizia dell'area dove è stato rinvenuto di tutto. Immancabili in tutte le discariche ormai pneumatici di varia natura e poi buste di spazzatura, un numero esagerato di siringhe abbandonate e rifiuti di ogni genere per riempire circa due camion di medie dimensioni di spazzatura. Non è stato facile ripulire l'area che peraltro per la sua bellezza e per il suo valore naturale paesaggistico a breve sarà a meta della quarta tappa del Campania Enduro Cup, portando così sul territorio appassionati di mountain bike per un viaggio esperienziale tra sport e natura. Un'area suggestiva e di grande interesse paesaggistico che evidentemente non risulta particolarmente apprezzata da chi invece dovrebbe difenderla e valorizzarla. Non è stato uno spettacolo edificante quello apparso questa mattina a chi si è recato sul posto per la bonifica dell'area. Tanti al lavoro per ripulire lo scempio provocato dagli incivili. Impegnate nei lavori le due cooperative presenti a Sala Consilina, Orsa Minore ed Esus, coordinate da Giuseppe Allocca. Sei volontari, quattro operatori ecologici, il consigliere comunale con delega all'ambiente Nicola Colucci, aiutandosi con il bobcat messo a disposizione gratuitamente dalla ditta detta con un operatore per il suo funzionamento. Ci è voluto un'intera mattinata di lavoro per poter ripulire l'aria dall'immondizia versata indiscriminatamente e senza rispetto. Uno scempio che il consigliere delegato all'ambiente Colucci è deciso ad evitare con la preparazione e a breve la presentazione in consiglio per l'approvazione di un regolamento ad hoc per l'installazione di fototrappole che si sta già provvedendo ad acquistare e con la regolamentazione di un sistema di videosorveglianza. Un progetto che il consigliere Colucci, dopo alcuni giorni di lavoro, anche dal punto di vista legislativo e nel rispetto della privacy, ha già pronto per essere approvato e con cui si punta a fermare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato nell'ambiente di rifiuti. Restiamo in tema ma ci spostiamo a Teggiano dove continua l'abbandono per strada di rifiuti con diversi cittadini che in queste ore postano foto e video in cui si vedono aree verdi completamente invase da rifiuti di ogni genere. Il territorio di Teggiano continua ad essere soggetto a sversamenti di rifiuti. Nelle ultime ore sui social network non sono mancate le denunce diarie che sono state utilizzate come discariche. Si tratta di spazzatura di ogni genere che in alcuni casi hanno anche strappato sorrisi di sdegno verso chi, con scarsissimo senso di civiltà e rispetto dell'ambiente, del mondo e della cosa pubblica, continua a trovare più comodo abbandonare i rifiuti e scarti di ogni genere nel verde piuttosto che in maniera comoda limitarsi a regolare il conferimento. Evidentemente è molto più divertente lasciarli abbandonati lungo le strade ed ecco quindi che Teggiano ancora una volta, in diverse aree, si trova ad essere invasa dai rifiuti di ogni genere. Su Facebook un video racconta di una pedemontana che lungo il suo tratto che collega Sassano a Teggiano è interessato da rifiuti. Bottiglie di plastiche e lattine che evidentemente qualche incivile ha pensato bene di gettare probabilmente dal finestrino piuttosto che lasciarlo nel primo cestino della spazzatura utile. Ma anche sacchetti di spazzatura pieni e accuratamente chiusi che sarebbe stato molto più facile e civilmente più giusto lasciare davanti casa dove gli operatori del servizio avrebbero provveduto a raccogliere per lo smaltimento. Il video ha suscitato come prevedibile molte reazioni con gli internauti che hanno ricordato come il servizio di raccolta rifiuti viene comunque pagato dai cittadini pertanto sarebbe molto più comodo ed anche economico lasciar svolgere il lavoro per cui si è pagati piuttosto che distruggere l'ambiente. Ma i rifiuti non si trovano solo sulla Pedemontana, strada peraltro di competenza della provincia di Salerno e su cui deve intervenire la provincia per le operazioni di pulizia. Antonio Mazza ha infatti postato sul suo profilo Facebook foto che testimoniano come siano stati gettati in un fossato lungo la solita via Vione Primo anche pomodori oltre naturalmente ai vari rifiuti come bottiglie e buste di plastica che fanno bella mostra di sé lungo il canale la cui acqua viene poi utilizzata per irrigare i terreni circostanti. Altri sversamenti sono stati denunciati in località Buco Vecchio, sempre a Teggiano, trasformato in un centro commerciale. Gli incivili infatti in questo caso non si sono risparmiati ma sono stati ben attenti dividendo i rifiuti in settori. Da una parte l'abbigliamento, da un'altra bustoni neri pieni di immondizia e naturalmente il cumulo di spazzatura dove si può trovare di tutto. Dopo il rinvenimento a polla di biscotti frollini destinate alle famiglie bisognose buttate nei terreni le immagini di Teggiano lasciano ormai solo frustrazione per un fenomeno che non si arresta e per il quale sembra che nulla si stia facendo per fermarlo. Cambiamo argomento, andiamo in Cilento e passiamo alla cronaca con l'operazione Bad & Black. La Guardia di Finanza di Agropoli ha scoperto un'evasione fiscale milionaria da parte dei gestori di Bad & Breakfast e Case Vacanze cilentane. B&B e Case Vacanze non in regola nel Cilento. I proprietari di ben 65 appartamenti e tre Bad & Breakfast non erano in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di struttura ricettiva extraalberghiera ma ne pubblicizzavano le offerte sulle principali piattaforme web dedicate. Con l'operazione Bad & Black la Guardia di Finanza di Agropoli ha scoperto una maxi-evasione. Nello specifico, due fratelli originari di Agropoli avrebbero sottratto all'erario circa 270 mila euro derivanti dall'affitto turistico di 29 mini appartamenti in località Licinella di Capaccio Pestum. Due nuclei familiari di Santa Maria di Castellabate, proprietari di ben 22 appartamenti affittati per il periodo estivo, hanno invece evaso redditi per 600 mila euro. E ancora, due gestori di Bad & Breakfast nel borgo antico di Agropoli affittavano completamente in nero le camere delle proprie strutture, servendosi anche dei servizi e della pubblicità offerta da una nota piattaforma web, dalla quale ricevevano regolare fattura per l'attività di intermediazione. Il rinvenimento di tali fatture ha consentito di accertare che ogni singola camera arrivava a fruttare anche 4 mila euro all'anno. Nell'ambito dell'operazione Bad & Black, i finanzieri della compagnia di Agropoli hanno incrociato i dati rilevati dagli elenchi comunali delle strutture ricettive extraalberghiere abilitati ad operare sul territorio, con le informazioni presenti sui siti web che pubblicizzavano offerte di case vacanze e Bad & Breakfast a destinazione turistica. E tale attività investigativa ha consentito di accertare la maxievasione. Ieri mattina per il dirigente scolastico dell'Istituto Pomponio Leto di Teggiano Rocco Colombo è stata l'ultima conferenza stampa nel ruolo di preside. Dal primo settembre infatti al Pomponio Leto subentrerà la nuova dirigente Maria D'Alessio per sostituire il preside Colombo che va in pensione. Ieri mattina durante la conferenza stampa per parlare dei progetti finanziati per l'Istituto Leto è stato anche tempo di bilanci per il dirigente Rocco Colombo. La conferenza stampa di ieri nel corso del quale sono stati presentati numerosi progetti che hanno visto l'Istituto di istruzione superiore Pomponio Leto di Teggiano essere destinatario di finanziamenti è stata anche occasione per il dirigente scolastico Rocco Colombo di salutare la scuola che è stato e il mondo intorno al quale ha girato la sua vita lavorativa. Il preside Colombo infatti raggiunge la tanto agognata pensione dopo 34 anni trascorsi nel ruolo di vicepreside prima e dirigente scolastico dopo alla guida di diversi istituti scolastici del territorio. Prima esperienza come vicepreside per Colombo presso la direzione didattica di Teggiano in carico ricoperto per 28 anni e presso l'Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano Scalo dove è stato vicepreside per due anni. A seguire Rocco Colombo è stato nominato dirigente scolastico passando alla guida dell'Istituto Omnicomprensivo di Polla scuola in cui ha ricoperto l'importante incarico per ben sei anni prima di essere nominato dirigente scolastico dell'Istituto Pomponio Leto di Teggiano che come annunciato dal primo settembre lascia dopo sei anni per l'agognato pensionamento. Tempo di bilanci quindi ieri non solo per l'esito dei progetti finanziati in corso di finanziamento ma anche per un emozionato dirigente scolastico. Voglio ringraziare il direttore del figlio scolastico della regione Campania Luisa Francese perché ha voluto e ha voluto destinare qui dal primo settembre prossimo una straordinaria professionista la nuova preside Maria D'Alessio alla quale faccio i miei auguri veramente più sinceri e avendolo conosciuto sapendo quali sono le sue competenze sicuramente farà ancora meglio di quello che siamo riusciti a fare noi. Noi ci abbiamo messo tanto impegno tanto lavoro ma soprattutto ci abbiamo messo passione ci abbiamo messo impegno ci abbiamo messo entusiasmo e qui voglio ringraziare davvero tutti i miei docenti voglio ringraziare tutti i collaboratori scolastici gli assistenti tecnico amministrativi la segretaria voglio ringraziare il mio team di direzione nelle persone del professore Roberto Manzolillo di Antonella Libretti di Antonio Lamaida e di Germano Torresi e poi voglio ringraziare ovviamente i genitori nella persona soprattutto del presidente del Consiglio Istituto Giovanni Cirone i genitori che sono stati sempre vicini a questa scuola e poi non posso non ringraziare ovviamente la stampa che è stata sempre generosa nei miei confronti insomma è stata davvero sempre caruccia nei miei confronti e questo veramente sono stati degli anni formidabili davvero perché siamo stati al centro del territorio e qui voglio ancora consentirtemi di ringraziare anche tutti tutti gli enti del territorio tutte le imprese del territorio tutte le associazioni presenti sul territorio che hanno permesso di poter attivare dei percorsi di alternanza scuola lavoro con la nostra la nostra scuola e soprattutto di ringraziare la banca Mote Pruno che è stata sempre 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 vicina a noi e poi insomma fare un bilancio è difficile è difficile perché insomma dovremmo ripercorrere tappe da quando ho iniziato questa la mia vita scolastica praticamente sono 60 anni che sto nella scuola e allora voglio ringraziare anche tutti i miei docenti i docenti che che ho avuto dalle scuole elementari i docenti che ho avuto dalle scuole medie fino all'università insomma è stato davvero grazie a loro se sono riuscito ad ottenere a sentirmi un privilegiato nella vita e qui voglio ringraziare anche soprattutto la mia famiglia mia moglie e miei figli signori il mio il mio viaggio finisce qui grazie a tutti torniamo a parlare di rifiuti ma questa volta ci riferiamo al sito di stoccaggio individuato a polla perché parte ora la protesta da parte dei cittadini infatti il gruppo attivisti per il Vallo di Diano ha iniziato una raccolta firme la richiesta di accesso agli atti per capire se la struttura individuata in località Sant'Antonio rispetta tutte le normative in materia di sicurezza che i rifiuti a polla arriveranno è certo la regione campania ha varato il piano resosi necessario a causa dello stop al termovalorizzatore di acerra che si fermerà per oltre un mese e i rifiuti che non potranno essere trattati in quel periodo arriveranno anche nel Vallo di Diano dove saranno riversate 2000 tonnellate di immondizia la mappa dei siti individuati per accogliere i rifiuti definita qualche giorno fa dice questo gli amministratori locali non sono stati capaci di andare oltre le solite dichiarazioni di facciata a fuochi ormai sparati e imbarazzanti botte in risposta con la provincia che ha autorizzato con apposita ordinanza lo stoccaggio è scattata ora la protesta a suon di carte bollate da parte di un gruppo di cittadini del comprensorio gli attivisti per il Vallo di Diano che ha richiesto all'ARPA che al comando dei vigili del fuoco di Salerno l'accesso ai documenti ai dati e alle informazioni relativi sia alla verifica dei lavori di adeguamento effettuati presso l'impianto sia all'accertamento del rispetto della normativa antingendio del capannone l'azione affermano si è resa necessaria a seguito dell'ordinanza del presidente della provincia di Salerno tramite la quale autorizza lo stoccaggio temporaneo e speciale del rifiuto biostabilizzato presso l'impianto in località Sant'Antuono e di vitale importanza capire in modo chiaro se la struttura rispetta tutte le normative in materia di sicurezza è quel motivo per il quale abbiamo raccolto delle firme di cittadini e imprenditori della zona industriale di Polla e abbiamo richiesto l'accesso civico agli atti per capire lo stato delle cose restiamo in trepidante attesa per valutare le future azioni da intraprendere quello che certo concludono è che siamo determinati ad andare fino in fondo per contrastare questa decisione inopportuna pericolosa e che si fonda su presupposti di sicurezza al momento poco chiari e torniamo ora ad Agropoli fino ad ottobre l'ascensore presente all'interno della stazione di Agropoli sarà fermo per guasto un cartello apparso in queste ore nello scalo ha messo in allarme quanti necessitavano del servizio per poter usufruire in tutta libertà dello scalo la denuncia arriva in particolare da un disabile che si vede precluso il diritto di usufruire dei mezzi fino a quando non saranno effettuati i lavori di riparazione dell'ascensore impianto fuori servizio per manutenzione straordinaria tempi di ripristino stimati ottobre 2019 ci scusiamo per il disagio con questo cartello rete ferrovie italiane avvisa gli utenti che l'ascensore presente nello scalo agropolese è fuori uso gravi disagi per anziani donne in stato interessante soprattutto persone disabili che non potendo soffrire del servizio sono vittime silenziose di tale situazione ogni giorno il grido di aiuto richiesto alla nostra redazione è da parte di un disabile pendolare che indignato per il cartello esposto sull'ascensore ha deciso di scriverci abbiamo segnalato al numero verde della ditta di manutenzione che gli ascensori delle stazioni di Agropoli e Valloscalo di recente installazione sono guaste ma nulla è stato fatto per risolvere la problematica per alcune persone continua il cittadino disabile l'ascensore vita gioia aria libertà movimento uscire con amici con la famiglia senza far pesare la disabilità a nessuno il fastidio più grande è per noi disabili il cartello che rete ferrovie italiane ha affisso all'esterno dell'ascensore forse l'azienda non sa che anche noi siamo esseri viventi oppure pensa che lo diventeremo ad ottobre quando ripristinerà il servizio siamo stanchi di questa situazione ci si riempie la bocca con il termine abbattimento delle barriere architettoniche e poi i primi a dover lottare contro queste benedette barriere siamo sempre noi disabili chiediamo che tale servizio sia immediatamente ripristinato siamo stanchi e sopporti e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro tg andiamo a sant'arsenio nuovo corso serale di studio sarà attivato da questo anno scolastico presso l'istituto ipseo a sacco di sant'arsenio una nuova opportunità per a diplomarsi dopo 18 anni comincia con una importante novità l'anno scolastico 2019 2020 all'istituto di istruzione superiore sacco di sant'arsenio presso l'indirizzo dell'istituto settore e servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera da quest'anno sarà attivato un nuovo corso serale dedicato principalmente a persone maggiorenni con o senza diploma che vogliano conseguire un nuovo titolo di studio sono due le articolazioni previste nel nuovo corso serale della durata di tre anni l'indirizzo enogastronomia e l'indirizzo sala e vendita un diploma serale per adulti che va ad arricchire e a completare la variegata offerta formativa dell'istituto sacco che oltre all'indirizzo professionale alberghiero prevede anche l'indirizzo tecnico settore economico il corso serale si terrà in orario pomeridiano dalle 16 e 30 alle 21 e 30 ed è destinato non solo a persone che abbiano più di 18 anni con o senza diploma ma fanno sapere dalla segreteria anche a ragazzi con più di 16 anni che non hanno continuato gli studi a condizione che abbiano un contratto di lavoro in quanto la frequenza serale verrebbe giustificata dalla volontà dei ragazzi di diplomarsi dopo aver lasciato gli studi per dedicarsi al lavoro per iscriversi e per ricevere tutte le informazioni è necessario rivolgersi alla segreteria dell'istituto in via florenzano a sant'arsenio una nuova opportunità per tanti giovani e meno giovani di entrare in un settore lavorativo che negli ultimi anni ha fatto registrare una continua crescita di richieste nel settore della cucina e in quello della pasticceria dopo il diploma alberghiero infatti non è raro trovarsi immediatamente inseriti in un percorso professionale lo spettacolo dopo il successo dei primi eventi continua il ciclo di appuntamenti targati campania by night presso la certosa di san lorenzo domani sera in programma il concerto di peppe servillo e del solist string quartet ha preso il via l'undici agosto per concludersi domani presso la certosa di san lorenzo padula al chiaro di luna la serie di appuntamenti che consente di partecipare a visite guidate spettacoli concerti ed eventi vari in alcuni ambienti della certosa solitamente chiusi al pubblico l'iniziativa è targata campania by night un programma di aperture serali dei siti culturali campani realizzato dalla scabec regione campania in collaborazione con il mibac associazioni fondazioni e comuni a quella certosa di san lorenzo aderito per volontà del polo museale della campania del comune di padule del consorzio artem al fine di potenziare in linea con lo spirito di tranquillità certosino la proposta culturale durante il periodo estivo garantendo la fruibilità di nuovi spazi che nell'ordinario non sono accessibili per mancanza di personale di custodia o impedimenti di natura logistica dopo il successo dei primi eventi continua il ciclo di appuntamenti domani sera l'ultimo presso i fienili della certosa si terrà il concerto di peppe servillo e soli string quartet a distanza di tre anni dall'uscita dispassionatamente che le aveva visti per la prima volta insieme affrontare con il dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana ecco presentimento che può essere considerato a tutti gli effetti la naturale prosecuzione di un progetto che non smette di spaziare all'interno di un immenso panorama musicale senza cercare di circoscriverlo ad un periodo o ad un autore dando vita ad uno spettacolo sempre in bilico tra musica e teatro La cultura torna a Sanza con un nuovo appuntamento librando la rassegna promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Sanza inserita nell'ampio contenitore culturale del meeting della Cervati nel prossimo appuntamento protagonista Carmelo Bufano con il suo libro La Divina Eterna Ballata Nuovo appuntamento con Librando 2019 a Sanza esperimento sociale di lettura collettiva promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune dopo aver ospitato il giornalista e redattore di TV 2000 Luigi Ferraiolo con il libro Don Peppe Diana e la caduta di Gomorra il prossimo protagonista di Librando sarà Carmelo Bufano autore della Divina Eterna Ballata torna dunque domenica 1 settembre la rassegna letteraria che sta aglietando le serate estive a Sanza inserita nel contenitore culturale del meeting del Cervati 2019 anche per questa occasione come sempre i cittadini si cimenteranno nella lettura di alcuni brani tratti dal libro di Bufano il volume è un viaggio introspettivo con un protagonista, Dilli che dialoga con i suoi organi interni e si interroga sul perché della vita chi siamo, da dove veniamo, sul senso della libertà, della patria, della democrazia un testo nel quale chiunque può identificarsi e ritrovare se stesso la ballata è un contenitore da riempire con tutte le cose che chiunque vuole fare è un componimento che si trova in tutte le letterature di lingua romanza dal canto d'amore ad una riflessione sull'eterno e sul divino ne discuteranno con l'autore, l'assessore alle politiche sociali del comune di Sanza Mariana Citera, Don Vincenzo Gallo, assistente unitario azione cattolica Antonella Conforto, consigliere con delega alla cultura e Vittorio Esposito, sindaco di Sanza modera all'incontro il giornalista Lorenzo Peluso, direttore del quotidiano quasi mezzogiorno.it L'appuntamento è per domenica 1 settembre alle 20.30 nell'arena delle case popolari in via San Vito a Sanza, i giochi di luce e le musiche saranno affidate alla Pinopinto Band E per lo sport il calcio domani sera alle 21 scende in campo per la seconda sfida la Salernitana che sarà al San Vito per sfidare i padroni di casa del Cosenza una gara difficile che deve essere anche considerato un banco di prova per i Granata dopo il successo ottenuto contro il Pescara nel primo appuntamento stagionale di questo campionato questa mattina la conferenza stampa del mister Giampiero Ventura in cui è stato sottolineato come la squadra abbia ancora ampio margine di miglioramento mister Ventura infatti all'incontro con i giornalisti analizzando la gara precedente e riconoscendo il netto predominio dei suoi in campo contro il Pescara ha però rimarcato come contro la sfida al Cosenza sarà tutt'altra cosa sarà quindi una sfida importante dal punto di vista della verifica del lavoro ma ascoltiamo qualche passaggio della conferenza stampa di questa mattina di mister Ventura noi a un certo punto abbiamo lavorato per avere una struttura questa struttura stiamo lavorando per migliorarla quando ci saranno altri giocatori, esempio di Cerci ci dà la possibilità di variare qualche cosa eventualmente ma oggi abbiamo una struttura che portiamo avanti e abbiamo iniziato da poco quando io domenica ho detto che avevamo fatto secondo me una buona partita niente di che ma una buona partita eravamo al 60%, 50-60% rivedendo la partita si sono resi conti che eravamo al 50-60% quindi abbiamo margine di miglioramento è una verifica importante quella che andiamo a fare è una squadra che è ostica, che non ti fa giocare è una squadra fuori casa in casa loro è sempre non facilissima quindi è una verifica la capacità di andare a fare la partita la capacità con quale personalità la vai a fare andiamo a fare delle verifiche importanti siamo all'inizio quindi sarebbe fantastico al di là del risultato che aggiungessimo un 5-10% a quello che abbiamo fatto domenica con il Pescara abbiamo fatto la partita quindi vuol dire che se la facciamo più o meno sulla stessa falsa riga del Pescara vuol dire che facciamo di nuovo la partita quindi l'obiettivo nostro è quello di lavorare perché questa squadra diventi consapevole delle proprie conoscenze consapevole dei propri mezzi consapevole delle proprie capacità e soprattutto consapevole degli obiettivi che si può dare quindi una volta che mettiamo a fuoco queste cose qui partiamo cioè ci ribocchiamo le maniche e andiamo in questa direzione e con la Salernitana chiudiamo il nostro Tg io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti